VARMORGORIS ragazzi, benvenuti a questo nuovo gameplay e non mi ricordo assolutamente nulla perché tra l'altro l'ultimo gameplay non l'ho ancora montato quindi non l'ho rivisto ed ho sbagliato tantissimo perché in realtà era utile sapere le cose adesso andremo con l'effetto sorpresa di chi non si ricorda più assolutamente nulla del gioco ma ci prova lo stesso ragazzi quindi TAAAC andiamo si è paretto tutto perché dobbiamo fare il coso solite robe, io ho due schermi ma non servono assolutamente a nulla perché ogni volta si blocca tutto ma va bene dovrebbe essere un vantaggio però la tecnologia è contro di noi ma noi giochiamo, vinciamo, uccidiamo Dracarys dopo la pubblicità bene ragazzi abbiamo introdotto delle nostre pubblicità ormai a tema possiamo andare in questi video non si li vede un cazzo di nessuno capito però chi non li vede si perde la magia chi li vede ci vuole veramente bene ah è vero le nozze viola giusto che adesso ci hanno cacciato via malissimo c'era una torta perché ti salai queste situazioni in un certo livello ma mi dispiace mi dispiace infatti non avevamo idea beh dai abbiamo fatto mezzo colpo no no abbiamo capito invece tra l'altro ci avete detto nei commenti che molte situazioni non sarebbero comunque cambiate quindi è stato veramente terribile scoprire tutta sta cosa è vero che ti vabbè chiediamo con chi però è vero che è colpa di Tyrion forse mettiamo un attimo pausa un attimo che forse il volume un attimino troppo alto tac perdonate ecco dietro le quinte niente prima ha detto stacci puttana e poi ha detto sei comunque mia amica vabbè allora io chiedo aiuto però lei effettivamente ha fatto la passiva aggressiva tu non mi hai aiutato io ti aiuto visto io sono migliore mi piace che c'è questo concetto di punto di amicizia in cui io ti sono amica fino a quando ti servo e riverisco in tutto e per tutto e mi dici che sono superiore ti faccio i compiti ti faccio gli esami ti faccio tutto è incredibile si you know me e? dov'è il problema? non ne sappiamo nulla va bene ma non so che cosa vuoi? erano tutte risposte inutili tutte e comunque in questo gioco c'è un sacco di gente ai pieni bassi della gerarchia che se la prende con i lord quelli più alti fanno di questa è comunque la figlia di una lady ho capito che è di un lord in una lady ho capito che è un resto grandissimo si ma pure quello là un tizio è a caso contro questo che comunque è più in alto ok e grazie abbiamo ucciso una persona per boh l'abbiamo ben capito è semplice quel discorso io faccio una cosa a te per una cosa a me non ha detto il talento ho detto anime gemelle anime affini mi lusingate si ballone e qua ci rompono le balle che siamo ancelle signore aspetta qualcosa in cambio non siamo stavo pensando a questa cosa non siamo stupidi voglio andare in maniera più colorita lo sto pensando si siamo mira forrester di casa forrester papara 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 dovevo farlo scusate non lo faccio più per il resto dei prossimi 5 gameplay non ci crede nessuno non ci crede nessuno direi che ho la prima seconda le condizioni benvenuti su youpornhub questo è interessato i soldi no è quel momento lì gaspo è esattamente quel momento lì look the pie io pensavo fosse molto prima del matrimonio ciao Tyrion questo è il nostro migliore alleato grazie è stato un piacere conoscerti lord Tyrion Lannister che non sei lord e non sei più un Lannister mi sa l'artfalle è un Targaryen in mira genetica roga d'are robe mi sono stelt torna mira Solid Snake a posto posto recuperare il contratto dai ma solo perché voglio mettere da capo la musica di Solid Snake è esagerato quando mai testa sulle pick in Game of Thrones è scomparso era una persona velocissima quello che si indica e ora noi dovremmo entrare nella nella studio di Tyrion e la chiave che abbiamo rubato sette gameplay fa è quella? e suppongo vabbè io prima origlio origlio e anche un po' oraglio e anche un po' oraglio tra poco se si ci brucia la torre lo dico scusami non volevo spingerlo però volevo solo insinuare che è uno stalker inquietante come? tu che? io ti amo io ho paura di stortezza sta sempre ritrovando effettivamente si stiamo incontrando una serie di malombre parlando del trono di spade non indifferenti escono dagli angolini bui e dicono non stai per morire ma sempre scusami che perso li ho tirato l'auricolare Lucio non sta sentendo questo prezioso dialogo non so troppo che è perso nelle neandrie aiutami ti prego qua ok ma la chiave che abbiamo preso 27 gameplay è servita a qualcosa oppure ci siamo persi noi un passaggio io ho convintissimo prendo la chiave utile apre le porte che cacchio non posso guardare fuori dalla finestra poi perché? come ha fatto tutto quel casino? ha sfondato una parete con un esplosivo ma come? ma sta per zetto che avevamo di fretta non sei worth it nessuno è worth this much trouble find your own way out of your mess mi faceva ridere vabbè dai l'arano sbagliata questa dai mi faceva ridere ormai sicuramente mira ti chiudi dentro? allora guarda veloce 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 dove vai? con tutta la calma non so apri apri prendi tutto figilo reale no non va bene forse è qua nasconditi sotto il letto sotto il letto mi sa che ci trovano vero? ho come l'impressione che ci troveranno ahi l'ha scriptato ok uccidilo come Asher no? si era nascosto e faceva l'azione stealth snakey non l'abbiamo andato a fare in culo il ragazzino questa cosa comunque eh lo voglio dire però magari se non lo mandava a fare in culo non andava a facendere il fuoco al fuego che era tu? tu ti arrivi beh non mi lascia ti farò morire non mi? ho fatto una tapestra con fuori sotto il ruolo si magari vale quanto tutta la sua vita si non ho trovato niente ci sei uno che culo che culo Grazie a Dio! Oh, l'ho trovato! Andiamo! Ho trovato il bambino che... Oh, prendi il cuore di loro! Abbiamo fatto sempre, al massimo, i caotici buoni! Però il caotico malvagio, così all'improvviso, no! I nostri bambini? Eh! Sono le bambini. Vedi cosa hanno fatto? Questa track era centinaia di anni. Prima che questo sia fatto, ci saranno loro pagare. Ogni ultimo uno di loro! Oh, le bambini. Devo rispondere a questo. Perché quest'albere a metà? Sì, sì, infatti, gli stanno strappando via gli alberi. Qui nel boss finale di Dark Souls. Sì. Be cautious, my lord. Be cautious, my lord. E ci vorrà sposare. Uniamo le famiglie! Siamo tutti felici. Ci dividiamo il legno ferro. Uccidiamo Lord Whitehill. Uccidono noi. Lei diventerà Lady di Castelferro. Sei sempre troppo ottimista. Oh. Io lo prendo. Poi magari non lo uso. Scusami. Vedremo. sempre meglio averlo. Ma io ho detto che comunque ci vogliono uccidere alla fine. Non è che non ero così tanto ottimista. Sono realista. Io schiaccio guarda valli da solo. Guarda i vecchi pozzo. Uccidi il ragazzo. Cioè. Lui a stento riesce a camminare. Però lo mandiamo a guardare il vecchio pozzo. Capito? Non sto facendo niente. Sta andando da solo. Com'è ragazzi? Tutto a posto. Oh. Sono capace di fare un gazzo sti Whitehill. Poi c'era un altro. Ah. Ce l'hai proprio in mano in bella vista. Scusami. Mettetelo nel tasco. Dicono di avercene avuto un po' per secoli. Forse sì. Forse no. Chissà. Ma sono degli ignoranturi. Comunque non posso andare da altre parti. Cioè il vecchio pozzo è l'obiettivo finale di questo gioco. E forse qua ci incontreremo per una serata romantica con Gwyn Whitehill. Ah. Sto torturando il povero Rodrik che a ogni passo muore. C'è George Michael che è morto penso. Questa Careless Whispers molto brutta. George Michael è morto. È morto di nuovo. Cazzo beh ricordi che c'hai. Scusami. Non capisco. L'odore della macina per la segatura. Ma che bell'ascia che sta là. Ma qua non è un'ascia da tagliare. Da tagliare. Questo è da nano. Da nano di cazzo addorno. Buongiorno. Però lei ha il coltello. Ah quindi apprezzo il coltello. È zorro lei. C'è una sciarpetta. Aspetta. Ma lei sta simpatica. Devo fermarlo. Devo fermarlo. C'è nulla. C'è nulla. Non c'è nulla per salvare. Ho spero di venire con il gioco Gwyn. E ho spero di ascoltarmi. Ho venuto come un amico. E l'abbiamo accettato sta zia. Ma che cazzo vuoi? È bello vederti. È bello vederti. È bello vederti. Facciamo i romani. Eh sì. Perché ha detto che è venuto in bacio. Capito? È bello vedere. Facciamo pinta di fidarci. Ma io non mi fido. Dammi un bacio. Sì. E lui ucciderà tutti. Non diciamo niente per il momento. Abbiamo una spia? È stata troppo semplice. Come la metterai? È vero? È troppo semplice. A che prezzo, infatti? Sì sì. No. Te sei venuta col pugnale e abbeto sguainato, comunque. E quindi tu che cosa ci proponi? Il cane era nel gioco. Sì. Il cane era nel gioco. Ehm. Ehm. Andiamocene perché non siamo in grado di combattere con nessuno. Sì sì. Secondamente. Ehm. Si sentono comunque i cavalieri che arrivano. Sì. Si parlano. Ehm. 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 No. Ok. Forse mi ricordo. Però vabbè. Ok. Scusate. Stavo scattabellando un attimo. Ehm. E qua che è successo? E ci hanno fatto i bagordi. Mi sa. Non me la ricordavo così. Hanno straffato i cosi. Vabbè. Hanno fatto il casino. Vabbè dai. Ehm. Sì sì sì. Sì sì. Ehm. Piangi però. Facciamo qualcosa. La razza di famiglia poi la recuperi Antron qui. Ma tutto bene. Ehm. Questo è il gameplay degli arazzi. Sì. GAMEPLAY OF TAPESTRY. È TAPESTRY arazzi. Sì. Guarda cosa è diventato della nostra casa. Non eravamo trovati. E' proprio... Quanto tempo siamo stati via? Una nottata. Scarsa. No, io voglio essere onesto con mamma. Ehm. Che ne è impossibile che lei... La traditrice. Ah, è vero. Lei è una robicoglioni. Me ne sono scordato. Dove lo so? Dove lo so? Non volevamo dire questo. Ok. Ok. E l'unico modo da stop è se noi subito la regola della nostra casa. Cosa? O che? O che verrà davvero... Desserti la controlla della nostra casa? Mamma, ti sei accorta della situazione? Ehm. Ehm. Scusi... Cioè... L'alternativa quale è sennò? Ci facci prendere a calci in culo, suppongo. Ehm. Ehm. Ok. Ehm. 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 Questo non può essere. E tutti i nostri plan... Per salvare Ryan... Per salvare Ryan. I sanno tutti, mamma. Tutti li sanno. Dovremmo rivedere la scena. L'ora di vedere la scena... Senti, io non so. Non dico niente. No, però la lotta attuale non... Ti devo pensare. Non me lo ricordo per sicuro manco io, onestamente. Mi pare di aver ricordato, però non voglio ricordare. Te lo ricordi, te lo ricordi, te lo ricordi. Comunque non voglio di niente. Voci generiche Di cattivi nei fantasy Che corona ha quel tezio Perché ha una corona soprattutto Perché c'hanno una corona questi lord Perché c'hanno il concilio ristretto Noi abbiamo il primo cavaliere del re La corona Siamo legno ferro Sono importantissimi Cosa state facendo? Tu dici rimaniamo Poi posso stare tre ore a scendere E' importante E' che stanno raccontando la storia Ma non era quello che intendete? Doveva essere la più diplomatica Doveva essere quella pacata Beh tecnicamente voglio dire Ho paura Io voglio il coltello Tanto comunque anche se scegli quella diplomatica Lui prende iniziative Si 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 incacchia con una hiena E' peggio di me sto qua Ma che suoni sta facendo? Che suoni sta facendo? Bravi Ma veramente questi si si stanno divertendo in tutto ciò Gli spacco in faccia quella cosa Parole grosse Parole grosse E io la spacco in testa Poi immagino che arriva qualcuno a salvarsi Sicuro Se moriamo Moriamo così Chi se ne prega Come cose La finiamo qui Magari Non era il caso Esagerare Non è il caso In ogni caso Continua Ok Griff Quando è finito Ha avuto Ha avuto questa casa E tu Rengimenti Ci hai fatto Qui Prendi il tuo figlio Da qui Ma ancora Puoi Roderick Roderick Questa è di livello troppo alto Roderick Ha l'armatura buona Andiamocene Paladino rinnegato Livello 20 Questo Almeno livello 20 Va a livello epico Lui di sto passo Direi che qui possiamo chiudere il gameplay Signore Perché sono Bei 20 minuti Possiamo Transizionare Verso Il finale Ragazzi Abbiamo avuto questa Incredibile Wow Insomma Sono successe cose Abbiamo mandato a fare in culo gente Abbiamo visto Razzi distrutti Io direi che Va bene Siamo stati più caotici Del solito Dai Ce la possiamo fare Adesso tocca a me Mandare tutto a puttane A questo punto Dai Dai Full rampage Vardo Elis Alla prossima Alla prossima Alla prossima